Ho pensato di dividere soprattutto l'argomento e di rivolgermi prevalentemente a una platea di medici di medicina generale, ma mi accorgo che ve ne sono pochi di medici di medicina generale. Quindi ho pensato alla prima parte soprattutto diagnostica e alla seconda parte terapeutica, ai miei conflitti, con l'incidenza di questo tipo di patologie perché alcuni potrebbero pensare che si tratti di una cenerentola, invece no. Addirittura in una Cochrane, una revisione sistemaria del 2013, proprio di Nisio che è qua con noi, ci diceva che è più alta dell'un per mille rispetto soprattutto al processo tromboembolico venoso. E quali sono le valutazioni diagnostiche che noi in questo momento conosciamo? Una strumentale e l'altra soprattutto clinica. possono essere disgiunte con difficoltà direi, soprattutto quando io guardo un attimo l'elemento strumentale, pensate un attimo, da 24-48 ore ed è possibile eventualmente estenderla ad entrambi gli arti inferiori. Rivolto ai medici di medicina generale c'è questo in letteratura, questo lavoro olandese, dove ci dice che sì, effettivamente è maggiore dell'1%, è l'1.3 per mille, la percentuale anzi. E le caratteristiche si rivolge, la percentuale più alta sicuramente come frequenza, l'età, la donna, ma soprattutto la varicosità, la vena varicosa. Altre caratteristiche di questa frequenza e di come questa possa essere impattante, con patologie più importanti, correlate dal tromboembolismo venoso già nel secolo scorso. Ci diceva Verlato che la percentuale con un range particolarmente ampio era rilevante per quanto riguarda il tromboembolismo venoso sia come TVP che embolia polmonare, divisa in sintomatiche da sintomatiche. Ma venendo prevalentemente a questa valutazione, a questa meta-analisi di Minno, dove ci riporta che il 18%, ricordiamo questi elementi, il 18% e quasi il 7% di embolia polmonare, mentre il 18% di tromboembolismo profonda. Vi dicevo che la caratteristica principale è una sindrome appunto vene varicosa e quindi la varicosità la fa da padrona. Alcuni ritengono che questa patologia debba essere o possa essere definita benigna ed autolimitante. Io ho messo diversi interrogativi e punti esclamativi. Soprattutto laddove noi la ritroviamo isolata, direi che questo livello benigno diventa un po' abbastanza dubbioso perlomeno. Mutuato da chi si interessa prevalentemente di modinamica e mi viene in mente soprattutto i cultori, soprattutto della materia e dello scivà, dove si interessa prevalentemente dell'importanza della pressione transmurale, cioè quella pressione che ha quell'equilibrio tra la pressione soprattutto intravenosa ed extravenosa. Laddove questa mattina anche Prandoni ha carezzato parlando della sindrome post-trombotica di quanto sia importante. West ci aveva già segnalato come nel polmone ci fosse già un elemento importante di dilatazione soprattutto di spazi che fanno passare liquido poi successivamente proteine. Zamboni l'ha ripreso nella sindrome soprattutto per quanto riguarda la sclerosi multipla. Lui parlava di guardiano, cioè una kinasi, un enzima che in qualche modo guarda un po' è una pietra miliare che trasforma il meccanismo meccanico in biochimico, trasformando soprattutto l'effetto infiammatorio che si associa a questa patologia. Pensiamo alle anomalie congenici o vascolari, ma pensiamo soprattutto, vi dicevo, alla demodinamica, cos'è che cambia? Cambia e varia una pressione di punta per aumentare successi riducendosi ed aumentando direttamente una turbolenza con una stasi ematica maggiore, con un'attivazione di processi infiammatori, penso alle metalloproteinasi 2,9 per esempio, ma sicuramente abbiamo un'azione sullo share stress ed è quello che in qualche modo ci dà ed è una garanzia con un effetto soprattutto antiaggregante di parete, fino ad arrivare a che cosa? Ai recettori caratteristici glicocalici che sono quelli che in qualche modo favoriscono questo processo infiammatorio. Perché dico questo? Basti pensare ad alcune anomalie. I pazienti che io ho e che sviluppano una sindrome di Klipper-3-Nano sono quelli che hanno più frequentemente degli episodi ricorrenti di patologia flogistica acuta, per poi successivamente andranno incontro ad un trattamento, perché viene interessato anche il sistema profondo, successivamente con un anticoagulante per un tempo indefinito spesso. Tralascio l'effetto infiammatorio perché l'abbiamo già stressato, ma ricordiamoci, ricordiamoci e soprattutto se vogliamo ricordarlo, come ricordiamo poc'anzia ad una platea, come ci siamo rivolti prima, di medicina generale, lasciamogli anche pensare che effettivamente alcune patologie. Per noi invece specialisti, attenzione di non scambiare un mondor con una linfosclerosi. Sono spesso, sono frequenti queste variazioni. Però chi mi ha preceduto ha già parlato soprattutto di quanto sia importante la ricorrenza e ha fatto già accennato soprattutto a quanto le patologie, soprattutto del pancreas, possano essere ricorrenti su questa valutazione. Altri ritengono che laddove sia necessario una valutazione diagnostica che non possa farne a meno di una valutazione sia di laboratorio ma anche clinica, per cui sia necessario anche, perché no, una valutazione più specifica a livello istologico. C'è o non c'è in una vaso superficiale che sviluppa una patologia o una sintomatologia seppur vaga, non come in questo caso, perché sicuramente la livello reticolare ci aiuterebbe ulteriormente come dati. Ancora più intrigante, sembra che in fondo la TVS possa essere anche foriera di altre patologie, non solo venose ma anche arteriose e viceversa per certi aspetti. Basti pensare al burger. Quante volte nelle acrocianosi noi pensiamo sia un qualcosa di funzionale, in realtà c'è un qualcosa di ben più profondo, di vasculitico che poi a distanza sviluppa una patologia rilevante a livello cutaneo per poi riscontrarsi soprattutto a livello della patologia anche arteriosa. E le associazioni che noi abbiamo tra, se è vero che si sviluppa prevalentemente con una varicosità, l'associazione che abbiamo con le arteriopatie periferiche va pensata e va ripensata anche in forme infiammatorie, infettive. Siamo qui a Bologna e chi mi modera ha sicuramente un ricordo di una persona, un caro amico, ricordo Andrea Cagnato di quanto abbiamo parlato e di quanto abbiamo stressato il gesto atletico che fosse questo la causa a volte di alcune patologie, anche flogistiche, di alcune situazioni o di flogosi cutane in distretti superficiali. Tralascio l'arto superiore o l'accenno velocemente? Sì, è vero, dipende dal materiale dei cateteri e di come sono lunghi. Ma quante trombosi vediamo con questi pic? E io chiedo all'infermiera, dimmi quante volte tu hai punto il paziente, se hai preso una cefalica hai un collo di cinghio in alto che frequentemente ti dà una patologia trombotica, vai su una basilica. E il chirurgo che mi dice sì, io riesco ad avere un'efficacia buona, sì non c'è dubbio, però alla schiuma e per varici sviluppa sicuramente una quantità maggiore di tromboflebiti superficiali. Ci sono delle facilitazioni diagnostiche, no, che io sappia no. Il delimero non ci dice nulla ma neanche sicuramente gli score, ci sono degli score ma non sono validati. E allora per ritornare e ricordare ancora Marcello Di Nisio che in qualche modo ci ha detto che in questa review che sì il Fondaparinux è il farmaco adeguato ma necessita di ulteriori approfondimenti, sono necessarie valutazioni più specifiche. Possiamo trovare anche, perché no, dei farmaci dei DOAC, quindi rivolta prevalentemente al Rivaroxaban, l'eparina a basso peso molecolare ha un suo ruolo, ma come ha un suo ruolo è eventualmente anche l'antinfiammatorio e perché no la chirurgia che qui non ne è tratto, però ricordiamoci che la legatura è importante. Benilde Cosby, partendo dal presupposto del carico trombotico, della vicinanza dello sbocco safenico e dell'eventuale sintomatologia, ci descrive la possibilità dei trattamenti che sono diversi fra di loro fino ad arrivare a un trattamento anticoagulante laddove il carico più pesante. Io per velocizzare ma anche per distinguere la terapia a seconda del timing, dei tempi, ho accarezzato questi tre studi, quattro studi anzi, lo Stenox, lo Steflux, il Callisto e il Surprise. Tutti sono uniti da che cosa? Estensione soprattutto della trombosi venosa superficiale. Alcuni hanno escluso i pazienti con rischio maggiore, i pazienti oncologici che mi hanno sentito poc'anzi. E l'obiettivo qual era? Questa è una patologia che fa male. Quando si esprime è dolorosa. La prima cosa è togliere il dolore, poi successivamente impedire un'estensione ed evitare laddove è possibile delle recidive. Sì, i dubbi quali sono? Profilassi o dose terapeutica? E allora lo Stenox ci ha detto che dieci giorni potevano essere sufficienti. Ma la valutazione confrontandosi con un placebo era quanto mai peregrina. Non è pensabile di non far niente. L'antinfiammatorio qualcosa dava, come risposte c'erano. Ma i dieci giorni, i dieci giorni non possono essere sufficienti, anche se facciamo un carico terapeutico di anticoagulanti. E allora la durata e la valutazione su questo, io ricordo di aver partecipato anche a un altro studio, lo studio Vesaglio, che noi praticamente facemmo una durata purtroppo anche su quella fu breve. Non riuscimmo ad avere una risposta. Sia la profilassi e il dosaggio intermedio di terapia, dette un risultato simile. Simile per quanto sia allo Steflux. Noi nello Steflux, quando mi propose Paolo Prandoni di partecipare al Callisto, non partecipai. Mi sembrava non etico partecipare ad uno studio che aveva come braccio un placebo. E invece partecipai direttamente allo Steflux, dove i dosaggi di trattamenti di aparina erano diversi l'un dall'altro. Un dosaggio, come sapete, di profilassi, un dosaggio di terapia piena, ma fatta solo per un periodo breve, dieci giorni, ed un dosaggio intermedio fatto per trenta giorni. Ahimè, notate che effettivamente quando noi siamo ai tre mesi abbiamo dei rebound particolarmente alti. E la risposta anche qua non fu buona. Lo studio, il gold standard, che in questo momento è quel parametro di riferimento, è il Callisto. Il Callisto che ha dimostrato, con un dosaggio di 2,5 mg per 45 giorni, verso placebo, dando una risposta buona, sicuramente mantenendola. È un NNT di 20. Il beneficio si mantiene, per cui abbiamo raggiunto. Sì, però, 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 ricordate quel 18% prima di prevalenza? Qui il gruppo placebo aveva un 5,9, un 6. Il paziente è un paziente non particolarmente a rischio. E quindi questo toglie un po' di forza, a mio avviso. Non c'è dubbio, però, che è entrato nelle linee guida e ad oggi è il farmaco di riferimento. Anche se non capisco bene cosa voglia dire al paziente, attenzione ai costi. Qual è il paziente che vi dice, non mi dia questo farmaco perché costa troppo? Noi a Faenza non ne abbiamo. Surprise. Sì. Confrontiamoci direttamente con un anticoagulante orale. L'anticoagulante orale ha dato direttamente questa possibilità di potersi confrontare con cosa? Con il gold standard, cioè con il Fondaparnis da 2,5. E direi che qui i pazienti erano diversi. Entravano direttamente i pazienti oncologici ed erano pazienti che avevano un interessamento trombotico sicuramente sopra il ginocchio, con uno fattore di rischio importante. I risultati sono stati direttamente questi. Si è avuta direttamente una risposta direi non rilevante ma sicuramente sovrapponibile ai due trattamenti. Purtroppo il Rivaroxaparn ha dimostrato una quantità soprattutto di sanguinamenti maggiori. Però permettetemi, confrontiamo le due Kaplan-Meier, confrontiamo le due curve. Non vi sembra che questa curva del Fonda nel Callisto sia sicuramente più bassa e che non vi sia un rebound anche del Fondaparinux direttamente nello studio Surprise. E allora forse ci sono dei pazienti che vanno trattati in maniera diversa, forse ci sfuggono ancora, forse dobbiamo capire ancora meglio. Vi ricordate Enzo Iannacci, vengo anch'io, non lo so se a Padova direttamente il mesoglicano ha dato dei risultati. Il Soludexid abbiamo sentito questa mattina e abbiamo sentito ieri con la proposta dello studio Giasone. Ci sono delle possibilità. Rimane un neo, un vuoto. Qual è il vuoto? La cross. Non è presa in considerazione la trombosi di cross né negli studi dove hanno valutato la trombosi venosa profonda né laddove si è studiata la tromboflebite superficiale. È orfana. Come trattiamo il paziente con la cross? Non può essere il confronto alla legatura. Sarebbe troppo poco. E allora sicuramente ancora c'è molto da imparare. Però, però, ne usciamo a Bologna e non v'è dubbio che non c'è un malato. Sicuramente che sia uguale a un l'altro ci insegnava a morire. Grazie. 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 Grazie.